26 nuovi malati, 5 morti e 57 pazienti guariti. Sono questi i numeri del coronavirus in Puglia riferiti alle ultime 24 ore. A renderli noti il consueto bollettino diramato dalla regione nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio. La curva dell'epidemia si mantiene stabile anche alla luce dell'elevato numero di test effettuati oggi, 1816. Il totale dei contagi, che tiene conto di attualmente positivi, guariti e deceduti, sale così a 4196, rilevati sulla base di oltre 70.900 tamponi. Dei 26 casi odierni, 4 si registrano nella provincia di Bari, che resta la più colpita, 9 in quella di Foggia, 7 nel territorio di Brindisi e poi 2 a Lecce e 3 a Taranto, mentre nella BAT è stato segnalato un solo nuovo contagio. Aumenta ancora, purtroppo, il numero delle vittime, altre 5 in un giorno, 2 nelle province di Foggia e Lecce ed una in quella di Taranto. Il bilancio dei morti raggiunge così quota 439. Fortunatamente, a bilanciare le brutte notizie, ci sono ancora quelle che arrivano dalla rete sanitaria regionale dedicata all'emergenza Covid, dove si conferma il trend delle ultime settimane, con un costante calo dei ricoveri. Secondo le informazioni fornite dalla Protezione Civile Nazionale, dei 2.903 pazienti attualmente positivi scendono a 401 quelli che si trovano in ospedale, di cui solo 36 nei reparti di terapia intensiva. Ma il dato più bello di giornata è quello riferito ai malati che hanno vinto la loro battaglia contro il coronavirus, che adesso sono complessivamente 855. 57 guariti in più rispetto a ieri. Non sono mai stati così tanti in un solo giorno.